arriva la punita no 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 d'accordo d'accordo comere così no no sto chiudendo no no tranquilli tranquilli tutti adesso andate tutti a vedere la replica di matto che vuoi andatevi andatevi a tutti basta andate via via mi voglio andatevi ma che guarda il vuoto basta così via dai andate via su fuori di scamo così manco faccio così adesso ci guardiamo una replica nemmeno è live una bella replica di matto a caes con lo zoom sulla carta di matto a caes ho metto allo stream tutto il giorno io dicevo di iniziare una stream se la gioca se la gioca a biliardino paolo decide di fare una stream tutta sua non è stata beggiora che ho streamato oggi vi hosto paolo cannone non sono attaccato ai soldi non farò stream vi hosto paolo cannone con tanto 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 rancore paolo idolo sto per chiudere twitch per sempre non farò più stream mi dispiace ci vediamo mai più magari su forse su instagram mi dedicarò alla musica semplice benvenuti panettoni grazie mille per l'host simo benvenuti 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 mi aggata anche l'invito ma dubito che sia di dell'account i panetti mai fatto un'autopompa